Musica Domani a Udine si decide sui trasferimenti annunciati dai prefetti no alla riduzione dei progetti di integrazione. Roberti, andiamo avanti lo stesso. Il sindaco della città dei cantieri chiama in causa al ministro degli interni sul sovraffollamento delle scuole e striglia nuovamente fin cantieri. Nel quartiere di via Riccardo Di Giusto il comitato chiede al comune una risposta sull'utilizzo del campo conteso con il rugby. Il capologo Isontino dopo tanti anni potrebbe avere la sua spiaggia in riva al fiume così come avviene in Slovenia. La prova tv inchioda al centrocampista per espressioni blasfeme, la carica di Samir a Firenze per vincere. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale del TG di Udinews TV. Tra poco tutte le notizie di oggi con in primo piano il tema sempre caldo, quello dei migranti. Vi racconteremo tutto, tutto quello che è successo in questa giornata in compagnia di David Zanirato. Buonasera David. Buonasera Giorgia. Prima come sempre lo sport e allora buonasera Jacopo Romeo. Buonasera a te Giorgia, buonasera Davide e a tutti i nostri telespettatori da casa. Una giornata se vogliamo agrodolce per l'Udinese in quanto è arrivata la notizia proprio pochi minuti fa della squalifica per una giornata decisa al giudice sportivo ai danni di Rolando Mandragora. Il centrocampista infatti è stato sanzionato per aver pronunciato nel finale della gara contro la Sampdoria espressioni blasfeme inquadrate dalla produzione televisiva della partita. Dunque l'ex giocatore di Genoa Juventus e Crotone sarà costretto a saltare la gara del Franchi contro la Fiorentina. Dunque un problema di formazione che si annuncia per mister Julio Velasquez nella gara di domenica alle ore 18 contro i Viola. Continuiamo a parlare di Udinese perché quest'oggi ha parlato ai nostri microfoni in esclusiva uno dei grandi protagonisti di questa via di stagione. Samir che con le sue prove convincenti nel ruolo di terzino sinistro si sta ritagliando un grosso risalto e anche un grosso spazio nel cuore dei tifosi eludinese. Si è detto molto carico e concentrato in vista della prossima gara di campionato annunciando che l'obiettivo è quello di andare al Franchi per ottenere i tre punti. Ascoltiamolo. Samir è arrivata una vittoria contro la Sampdoria, la prima partita in casa ma soprattutto la squadra oltre ai tre punti ha espresso anche un bellissimo gioco soprattutto nel primo tempo. Sì, usciamo ieri con un bel risultato, giocando in casa con i nostri tifosi, è stato bello ieri quello che la squadra ha fatto, ha fatto una bella gara, una bella prestazione, una bella guerra. Abbiamo sofferto tantissimo ieri e gli ultimi 15 minuti, quindi secondo me questa è la mentalità giusta che dobbiamo avere in tutte le partite e secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso c'è la Fiorentina, una trasferta difficile, la Fiorentina è una squadra che si è rafforzata e anche negli ultimi anni non abbiamo una tradizione positiva, gli ultimi risultati contro i loro purtroppo non sono stati buoni. Pensi che ripetendo la partita vista contro la Sampdoria si può andare anche a Firenze per fare il risultato? Sì, dobbiamo scendere in campo per vincerla la partita, ma comunque se non possiamo vincerla non possiamo neanche perderla, quindi dobbiamo andare a Firenze per fare una buona partita, una mentalità giusta. Queste dunque le parole di Samir in vista della gara contro la Fiorentina. Noi abbandoniamo momentaneamente l'Udinese ma continuiamo a parlare di calcio e ci spostiamo in Serie C, andiamo in casa del Pordenone in quanto la società neroverde ha annunciato il nuovo direttore, il nuovo vecchio direttore generale che sarà Fabrizio Cometti, un dirigente di lungo corso con esperienze anche al Verona, al Carpi, a Vicenza tra le altre. Dunque il presidente Lovisa insieme ai suoi soggiorenti e Vendrame danno il benvenuto al direttore Cometti e ringraziano anche quello che è stato il suo predecessore Adriano Toniolo per il lavoro svolto nel corso dell'ultima annata sportiva. Dunque un Pordenone che dopo aver cambiato tanto in campo cambia anche nei suoi quadri societari in vista del campionato di Lega Pro che partirà a metà settembre. A te Giorgia. Grazie Jacopo, torneremo più tardi da te per parlare in particolare del calcio di lettanti. Ora veniamo alle notizie di cronaca con la questione migranti in primo piano. Continuano a salire i numeri alla Cavarzerani dove questa mattina si è registrato un continuo via vai di forze di polizia. Domani in prefettura la riunione in cui saranno stabiliti i termini dei trasferimenti. Intanto questa mattina i quattro prefetti della regione hanno detto la loro in commissione regionale sulle modifiche al piano migranti voluto dalla giunta Fedriga. Vediamo. Cavarzerani sempre più affollata. Con l'arrivo di una ventina di migranti nelle ultime ore è stata superata quota 500 e ci è attesa per i trasferimenti annunciati nei giorni scorsi dalla regione. Se ne saprà qualcosa di più domani dopo l'incontro in programma in prefettura tra tutte le realtà coinvolte. Si attendono numeri certi sull'entità dei trasferimenti che dovrebbero alleggerire la struttura pensata per ospitare un massimo di 320 persone. E davanti all'ex caserma si è registrato questa mattina un continuo via vai di pullman della polizia. Normali controlli fanno sapere dalla questura di una trentina di migranti in prevalenza pakistani e afghani. E intanto si registra la presa di posizione dei quattro prefetti del Friuli Venezia Giulia ascoltati questa mattina dalla sesta commissione del Consiglio regionale che sta esaminando le modifiche al piano annuale per l'immigrazione volute dalla giunta Fedriga. Modifiche che prevedono un taglio dei progetti di inserimento dei migranti per oltre un milione e mezzo di euro. Ridurre questi fondi significa correre il rischio di avere i migranti in giro per la città senza fare nulla. Hanno sottolineato Anna Paola Porzio, prefetto di Trieste, Massimo Marchesiello, Gorizia, Angelo Ciuni, Udine e Maria Rosaria Maiorino, prefetto di Pordenone. E questo porta all'emigrazione dove accadono le forme di captazione da parte della criminalità. Marchesiello ha sottolineato che i progetti di integrazione attraverso il volontariato hanno contribuito a ridurre il clima di diffidenza e ostilità nei confronti dei migranti. Lasciare le persone senza aiuti, ha concluso Angelo Ciuni, prefetto di Udine, manderebbe in depressione anche chi vive nel suo territorio. Questa dunque è la posizione dei prefetti espressa questa mattina in regione, ma la regione, la giunta, non indietreggia sulle proprie posizioni. Sentiamo l'assessore Roberti. Sessore, iniziamo parlando dai richiedenti asilo. In quanti verranno spostati da Udine? Quali notizie le ha in merito? Noi abbiamo richiesto un trasferimento già appena si è presentata questa emergenza che consta di un arrivo negli ultimi giorni abbastanza consistente di persone che si sono sistemate presso la caserma Cavarzerani. Ricordo che la caserma Cavarzerani nel 2016 aveva mille ospiti al suo interno. Oggi siamo fortunatamente molto lontani da quei numeri, siamo a meno della metà. Ciò nonostante teniamo sotto controllo la situazione. Appunto per questo abbiamo chiesto immediatamente un trasferimento, un alleggerimento al Ministero. Quel trasferimento ci è stato concesso. Il primo decreto con lo spostamento dei primi 50 ospiti è già arrivato, quindi avverrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Dopodiché lavoriamo per alleggerire ulteriormente. L'obiettivo è quello di tornare a una situazione di piena normalità nel più breve tempo possibile. Oggi i prefetti hanno fatto sentire le loro preoccupazioni in merito al taglio dei finanziamenti. Che cosa ne pensa e come risponde? Questa mattina in audizione abbiamo sentito tante opinioni personali, ma pochi dati concreti, nel senso che anche da parte dei consiglieri, commissari, sono state fatte delle precise domande, anche per capire se questi progetti effettivamente funzionavano. Per esempio, volevamo capire dai prefetti e dalle associazioni che effettivamente gestiscono quei servizi, se a questi corsi, a questi microprogetti, quanti aderivano e quanti facevano tutto il percorso fino alla fine. Purtroppo quei numeri non ci sono arrivati, dunque non ci sono stati nuovi elementi per ripensare a un'altra soluzione diversa da quella che avevamo già ipotizzato. Quindi la delibera è passata con un parere favorevole della Commissione e si va avanti. E il PD che ne pensa, David? Giorgia interviene a favore della posizione dei prefetti. Siamo sulla pagina Facebook del gruppo consigliare del Partito Democratico che con il consigliere porrenonese Chiara Dajau oggi è intervenuta dicendo che la Lega non vuole la pace sociale ma mantenere consenso alimentando la paura. Quando eravamo noi a dire che la direzione del governo sulla gestione dei migranti non era quella giusta, ovviamente sbagliavamo, peccato che ora, aggiunge la Dajau, di fatto lo dicano anche i prefetti. A questo punto o nessuno capisce nulla e ha ragione solo la giunta a Fedriga oppure c'è qualcosa che non va ed è qui che finisce la propaganda e inizia la responsabilità di gestire la situazione. Queste le parole della Dajau. Abbiamo visto nell'intervista a Giorgia Roberti che prima di salire a Udina ha incontrato oggi anche il SAP, il sindacato di polizia, al quale ha rinnovato la conferma che sarà richiesto anche l'esercito per presidiare i confini, soprattutto quello della ex provincia di Trieste dove c'è maggior afflusso dalla rotta balcanica. Torniamo a Udine, restiamo però sempre sul tema migranti. Perché? Perché l'amministrazione comunale intende potenziare l'assistenza medica ai richiedenti asilo nell'ex caserma Cavarzerani. Preoccupa il monitoraggio sanitario di quelli esterni alla struttura. Palazzo D'Aronco sta cercando di capire anche se la presenza di questi stranieri si è associato un aumento dei costi per l'ospedale di Udine. Eventualmente, fa presente l'assessore alla sanità Barillari, chiederemo alla regione di riconoscere il maggior carico di assistenza da parte del nosocomio. Mentre all'interno delle caserma Cavarzerani e per estensione anche della Friuli, il sistema di monitoraggio, soveglianza sanitaria e controllo è certo, codificato e verificato tutte le mattine da un medico che presta servizio per conto dell'azienda sanitaria presso la caserma. Questo all'esterno della caserma invece in qualche modo presenta delle maglie più larghe, ovvero un sistema di controllo meno preciso, meno accurato, perché sono invitati a recarsi dal medico di base. Ci sono anche degli operatori che dovrebbero andare a prenderli e portarli, però chiaramente vi è minor garanzia che questo effettivamente avvenga. Peraltro, quella che è anche la possibilità di trattamento di eventuali malattie al di fuori della caserma è molto più incerto rispetto a quanto sia all'interno della Cavarzerani. Noi ci stiamo concentrando, come programma per la prossima annata, sul potenziamento dell'assistenza sanitaria all'interno della caserma. Però ciò che ci stiamo cercando di capire è se questa maggiore intensità di malattia che si associa a queste persone poi corrisponde anche un aumento dei costi. A quel punto quello che andremo a chiedere è sicuramente alla Regione di riconoscere l'aumentato carico di assistenza necessario per l'ospedale di Udine, perché loro vanno tranquillamente in ospedale a Udine o al porto di soccorso come tutti i residenti. La domanda clou della popolazione è dunque se vedo in giro queste persone e rischio di prendermi delle brutte malattie? Noi ci sentiamo in lanciare il messaggio che c'era stata fatta una segnalazione perché qui riguarda la scabbia. Ecco, da questo punto di vista finalmente siamo tranquilli, abbiamo tirato un sospedio di sollievo perché gli esperti ci hanno detto che quando dunque sia deplorevole, sgradevole, vedere queste persone che dormono ad esempio nei giochi dei parchi dove poi giocano i bambini, non c'è rischio di trasmissione di malattie in particolare della scabbia. Il tema dei migranti è comparso alcuni giorni fa anche su un post sul profilo ufficiale di Facebook del Comune di Udine e si continua a discutere su questo tema, David. Sì Giorgia, perché anche oggi assieme ad altre notizie, per esempio la riapertura da domani di via Poscolle e altre notizie di pubblica utilità, oggi è comparso un altro post che parla di abbandono di cuccioli felini. Lo vedete in questa immagine, siamo proprio sul profilo del Comune di Udine, due gattini lasciati in una cesta per la biancheria presso l'uscio di un'abitazione, ci si dimentica troppo spesso che decide di prendere con sé un animale un impegno che non comprende la semplice nutrizione, bensì averne cura in tutti i suoi aspetti. Un altro post che ha fatto scattare la discussione sul web con tantissimi commenti e a pro o contro, ma soprattutto sull'utilizzo di questa pagina Facebook del Comune di Udine, tanto che alcuni consiglieri comunali di opposizione, tra cui Enrico Bertossi, siamo sulla sua pagina Facebook, assieme ai capigruppo Venanzi, Pirone e Patti e altri consiglieri comunali hanno presentato proprio una interrogazione a risposta urgente al Comune sull'utilizzo di questa pagina Facebook. Una serie di premesse, le vediamo nella nota, sulla interrogazione presentata dai consiglieri che chiedono appunto alla Giunta chi sia l'esecutore materiale dei post, quali provvedimenti intende a prendere per questo utilizzo e poi appunto si chiede di dare risposta immediata per capire come sta funzionando la gestione della pagina. E veniamo alla vicenda del crollo del ponte di Genova. Di Maio vuole fincantieri per la ricostruzione. Il vicepremier conta sulla società pubblica per un controllo più forte dello Stato, d'accordo con riserva Francesco Russo. Intanto l'azienda con sede a Trieste sigla un accordo in ambito croceristico con il colosso cinese CSSC. A rifare il ponte Morandi di Genova dovrà essere un'azienda di Stato. Nell'ottica di garantire ai cittadini un servizio all'altezza delle attese, spicca il nome di fincantieri, considerata dal vicepremier Luigi Di Maio un'eccellenza mondiale capace di realizzare il ponte in meno di un anno nel cantiere di Genova, portando così anche lavoro e lustro alla città e ai genovesi. Una soluzione che si inserisce nel quadro della reboca delle concessioni ad autostrade, essendo la nazionalizzazione, sulla base di quanto espresso dal vicepremier, l'unica soluzione possibile. Le altre opzioni che si verrebbero a prospettare, ha infatti continuato Di Maio, sarebbero o darle a uno degli altri due concessionari autostradali o darle agli stranieri. Nel frattempo Fincantieri e il maggiore conglomerato cantieristico cinese, ovvero il China State Shipbuilding Corporation, hanno firmato un memorandum of understanding per l'amplemento della cooperazione industriale già esistente tra i due gruppi a tutto il comparto delle costruzioni navali mercantili. L'amplemento previsto dall'intesa include una joint venture per le prime unità da crociera mai realizzate in Cina per il mercato locale e altre attività, insieme a progetti di ricerca e sviluppo in molteplici aree della navalmeccanica. A proposito della vicenda di Genova, si muove anche Udinese per la vita. Sì, dici bene Giorgia, siamo proprio sul sito internet della società. Udinese per la vita è vicina alla città di Genova, profondamente colpita da questa tragedia, del crollo del ponte. L'associazione, voluta dalla signora Giuliana Linda Pozzo, ha compiuto un gesto di solidarietà dal valore simbolico oltre che materiale. Abbiamo effettuato, dice il presidente della ONLUS, Andrea Bonfini, una donazione in favore di Gianluca Ardini, la cui storia ci ha profondamente toccato. Il forte desiderio di veder nascere il figlio che l'accompagna, darà la luce prossimamente, lo ha aiutato a tenere duro e uscire vivo dai rottami del suo furgone, rimasto incastrato tra le macerie dei piloni crollati. La donazione rappresenta un gesto di solidarietà affinché in questo momento di sofferenza la giovane coppia possa guardare al futuro con serenità pensando al lieto evento che li attende. Questo dunque è l'impegno di Udinese per la vita. Parlavamo di Fincantieri. Fincantieri non è solo nei pensieri di Di Maio, ma è anche nei pensieri del battagliero sindaco di Monfalcone, Cisint. Perché? Perché la Cisint ha scritto al ministro dell'interno Salvini, alla luce del 22% di stranieri presenti nella città, chiedendo un cambio di modello produttivo alla Fincantieri, ma non solo, maggiori poteri per intervenire su fronti particolarmente problematici come istruzione e sovrappollamento delle case. Quali problemi? Problemi sanitari, un problema scolastico importantissimo generato dal non governo di una scelta produttiva che è quella degli appalti e subappalti delle grandi aziende, in particolare di una grande azienda, della nostra città. hanno determinato un problema, uno squilibrio enorme che si ripercuote anche sul sovrappollamento illegale che noi viviamo. Perché se è vero che sono 28.000 i residenti, è vero anche che però ce ne sono almeno 3-4.000 che sono degli ospiti. Ho scritto al ministro Salvini per riuscire a dare delle risposte alle conseguenze che questo tipo di percorso dal 2005 ad oggi ha generato. non è più possibile che le cose non vengano affrontate e risolte anche a livello proprio di scelta produttiva che secondo noi deve invertire la rotta e per invertire la rotta ha bisogno di una modifica della scelta produttiva proprio di fincantieri accompagnata a una serie di misure che devono essere molto ben normate, mi riferisco ad esempio ai luoghi di culto, e molto ben gestite dando appunto anche più poteri ai sindaci affinché possano essere anche nei luoghi secondo i fabbisogni organizzate. Incidenti, incendi e arresti, tutto questo nelle pillole di Cronaca a cura di Alice Mattelloni. Incendio in una villetta di Pocenia al Civico 2 di Vicolo chiuso alle 9.15 di stamane. Le fiamme si sono sviluppate in un'autorimessa coinvolgendo l'autovettura all'interno della stessa. Il mezzo è andato completamente distrutto. Registrati danni anche alle strutture dell'immobile in particolare al solaio tra il garage e il piano superiore. Dichiarata inagibile una delle camere da letto della casa. Nel momento in cui si è sviluppato il rogo in casa c'erano madre e figlie di 14 e 18 anni. Nessuna di loro ha riportato conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e due mezzi della sede centrale di Udine. Un quarto componente della banda di rumeni sospettata di essere coinvolta nei furti, nelle abitazioni, negli esercizi commerciali del Medio Friuli è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Codroipo e San Daniele nelle campagne di Redenzicco di Sedegliano. Un quinto complice è riuscito ancora a darsi alla fuga. Dopo il fermo dei primi tre uomini eseguito domenica sera, 26 agosto, i militari dell'arma hanno continuato a controllare la zona con pattugliamenti in borghese nelle campagne. Certi che il gruppo fosse ancora parzialmente attivo a seguito del furto di una Peugeot rubata domenica notte nella stessa zona. Due carabinieri camuffati da pescatori hanno notato i due sospettati nelle campagne e li hanno seguiti fino ad arrivare nel nascondiglio dell'auto rubata poche ore prima. Rintracciato anche un furgone, una Fiat Ducato che era stato rubato il 26 agosto in un'azienda di Artegna con all'interno diversa merce tra cui computer e saldatrici. Mattinata di traffico davvero molto intenso quella di oggi sulla rete autostradale di Autovie Venete. Il primo incidente si è verificato nel tratto Cessalto-Sandonà di Piave in direzione Venezia coinvolti due mezzi pesanti e due automobili un unico ferito non in gravi condizioni. A concessionare ulteriormente la viabilità è stato un secondo incidente accaduto verso le 10 fra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie e la polizia stradale il 118 a soccorso dei due feriti e i soccorsi meccanici. Un terzo incidente infine la cui dinamica è incerta probabilmente sono due le auto coinvolte è accaduto verso le 11.30 fra Cessalto e Sastino di Livenza. C'è un'ultima ora David che riguarda ancora un incidente. Sì Giorgia grazie anche all'ausilio della regia siamo in grado anche di proporvi le prime immagini che ci sono arrivate da Via Cividale a Udine nei pressi della intersezione con Via Riccardo di Giusto c'è stato un investimento di un pedone sul posto sono sopraggiunte le ambulanze del 118 la polizia locale e i carabinieri per soccorrere l'uomo al momento le notizie danno la situazione del ferito che è stato poi trasportato in ospedale per le cure per i rilievi impegnati appunto gli agenti della polizia locale e i carabinieri per quanto riguarda poi un altro intervento proprio degli ultimi minuti i vigili del fuoco sono impegnati a Lignano Sabbiadoro per l'incendio all'interno di una lavanderia a gettoni in Viale Europa Unita mentre tornando sulla situazione delle strade abbiamo sentito nelle pillole i primi tre incidenti di stamattina se ne è verificato un altro nel pomeriggio siamo ora sul sito di autostrade che ci segnala la situazione live ancora a code per quanto riguarda la 4 nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova e poi a seguito proprio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio tra San Giorgio e la Tisana la ripercussione si è creata sulla strada statale 14 soprattutto tra Palazzolo dello Stella e Muzzana del Turniano vedete tutto bloccato attualmente la circolazione è ferma un'ultima notizia di cronaca ci arriva dal Pedemontana porlenonese dalla Val d'Arzino in particolare con un amasso che è precipitato sull'ex provinciale ha comportato la chiusura della arteria fortunatamente non ha coinvolto nessun veicolo in transito andiamo ora nel quartiere di via Riccardo di Giusto a Udine dove tanti bambini aspettano di potersi allenare a calcio nell'impianto di via Valente l'unico campo disponibile in zona attualmente in gestione all'associazione sportiva rugby Udine molti cittadini riuniti nell'associazione Aurora Udine Est da tempo stanno chiedendo al comune una risposta sulla possibilità di utilizzare questo impianto risposta che ancora non è arrivata dopo settimane e settimane di attesa e allora ieri hanno manifestato pacificamente nell'area per rilanciare la loro richiesta in questo momento abbiamo ottenuto da parte della federazione l'iscrizione della società di calcio il problema è che c'è ancora un punto di domanda sull'impianto l'impianto è in gestione a un'altra società e in questo momento la nostra realtà è orfana di un impianto dove poter far giocare i bambini abbiamo bisogno che le istituzioni ci supportino ci diano se non la gestione perlomeno la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo che è un impianto di calcio che secondo i regolamenti comunali deve essere destinato al calcio e quindi deve tornare alla pratica di attività sportiva noi siamo anche disposti a accogliere altre realtà altre associazioni che vogliono supportarci perché la nostra finalità non è quella di essere despoti in questo quartiere in questo territorio ma è quello di riportare ai bambini l'esistenza di una realtà calcistica per praticare lo sport il comune risponde per via traverse in maniera informale ma non in maniera scritta non conosciamo il motivo ma noi siamo disponibili stanno dove trovarci e assolutamente c'è la massima disponibilità per trovare un punto di incontro capito la parte la manutenzione di quest'area che necessiterebbe di vari interventi assolutamente sì stiamo parlando di un campo di calcio quindi sono 100 metri di lunghezza per 30 di larghezza gli impianti gli spogliatoi il campo di sfogo la recinzione c'è tutta una serie di attività che per il decoro e la buona tenuta della struttura devono essere fatte è impensabile che la società neocostituita possa farlo senza un contributo economico da parte delle istituzioni ci trasferiamo ora a Gorizia per un progetto che potrebbe diventare realtà a breve stiamo parlando del progetto di Isonzo Beach ne ha parlato il sindaco Ziberna con l'assessore regionale alle finanze Zilli chiedendo l'accessione della proprietà del parco di piuma per rendere fruibile il fiume e le sue rive in un'ottica turistica e ricreativa vediamo dopo anni e anni di attesa Isonzo Beach potrebbe finalmente diventare realtà e Gorizia potrebbe così avere la sua spiaggia un primo passo importante verso la realizzazione del progetto tanto desiderato del comune di Gorizia ma rimasto sempre un sogno è stato compiuto grazie all'incontro tra l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli e il sindaco del capoluogo Isontino Rodolfo Ziberna l'esponente dell'esecutivo regionale ha ricordato la volontà della giunta Fedriga di dismettere ove possibile i beni immobili di sua proprietà affinché siano destinati a un uso del quale possano trarre vantaggio i cittadini e la comunità il comune di Gorizia ha progetti ambiziosi e la regione assicurato Zilli sarà vicina all'amministrazione locale in considerazione del fatto che si tratta di una realtà virtuosa che ha dimostrato e dimostra un utilizzo ottimale delle risorse a disposizione anche alla luce del progetto Zese la zona economica speciale europea tra i progetti che potrebbero venire alla luce c'è quindi Isonzo Beach tramite l'utilizzo dell'edificio di Ponte del Torione ex Ente 3 Venezie e della concessione d'uso del parco di Piuma Basso attualmente di proprietà regionale l'obiettivo è di permettere la fruizione delle sponde dell'Isonzo sulla falsariga di quanto avviene in Slovenia dove il fiume e le sue rive sono già ampiamente vissute in un'ottica ricreativa sportiva e turistica sempre nel rispetto dell'ambiente Restiamo a Gorizia per parlare della quindicesima edizione di Gusti di Frontiera che si allarga ai cinque continenti dal 27 al 30 di settembre Gorizia ospiterà 343 stand enogastronomici di quasi 50 paesi del mondo tra cui per la prima volta ci saranno anche l'Australia e la Nuova Zelanda vediamo Ben 343 stand enogastronomici rappresentanza di cinque continenti del mondo suddivisi in 19 borghi geografici nella sua quindicesima edizione Gusti di Frontiera supera se stesso cinque legno entry che renderanno ancora più ricco e variegato il mondo di sapori e specialità che si potranno provare nelle strade e nelle piazze del centro storico goriziano da giovedì 27 domenica 30 settembre ovvero l'Australia la Nuova Zelanda i Camerun il Marocco e la Siria chef blasonati e personaggi di spicco del mondo enogastronomico e culturale saranno di scena nel salotto del gusto la cui regia è stata affidata al consorzio Coglio a dare via la carellata di ospiti prestigiosi saranno nella serata inaugurale l'eccentrica chef stellata Michelin Cristina Bowerman e come special guest il blasonato pasticcere re del cioccolato Ernest Knamm non soltanto cresce dal punto di vista quantitativo perché noi abbiamo orientativamente certamente abbiamo il quinto continente e un risultato importante abbiamo circa un 10% in più sia degli standisti 343 sono gli stand presenti e ci sono 4-5 nazioni in più perciò in questo momento siamo circa 50 nazioni e 343 standisti un grande risultato ma io ho sempre sostenuto che c'è un limite ovviamente alla crescita anche la superficie di Gorizia quella è stiamo puntando perciò come abbiamo già fatto scorso anno anche a ad elevare la qualità vi considerate oltre 40 paesi provenienti da tutta la parte da tutti i continenti del mondo a Gorizia quindi insomma un evento importantissimo che va sostenuto e soprattutto un evento in grado di dar lustro a quelle che sono le ricchezze della nostra regione parlo dell'enogastronomia valorizzata fatta conoscere noi abbiamo bisogno di far conoscere la nostra regione quindi un grande evento un evento che abbiamo appoggiato e appoggeremo in futuro tutto questo sarà a gusti di frontiera nell'ultimo weekend di settembre prima però a metà settembre c'è Friuli Doc Davide si Giorgia infatti a Udine si anticipa la Kermesse del Gusto con questo tradizionale appuntamento continuano anche le anticipazioni per quanto riguarda il programma dal 13 al 16 settembre oggi per esempio sono state lanciate le iniziative dedicate ai ragazzi e all'insegnamento a loro della cultura del buon cibo e del divertimento poi c'è anche la novità che Ersa tornerà in via a Mercato Vecchio con i suoi stand e ci saranno giochi laboratori e momenti di approfondimento sulla storia del cibo dedicato proprio ai bambini e alle loro famiglie ricordiamo che saremo a seguire come media partner questa grande festa di Friuli Doc torniamo alle notizie sportive Jacopo rieccoci come promesso in apertura ci concentriamo sul calcio dilettantistico perché a Lignano in corso proprio in questi minuti la presentazione dei calendari di tutti i campionati regionali FIGICI allora noi ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Alice Matteloni perché oltre alla prestazione dei calendari poi ci sarà anche una serata di gala in cui verranno premiate tutte le compagini che hanno vinto i rispettivi campionati nel corso della stagione 2017 e 2018 da quello di promozione in giù fino alla terza categoria a te Alice buonasera buonasera a tutti sì siamo qui dal Cursal dalla sala congressuale perché riparte la stagione del panorama dilettantistico regionale e questa sera verranno premiate tutte le squadre vincitrici dei campionati dall'eccellenza ai giovanissimi regionali ma non solo anche tantissimi presidenti che si sono contraddistinti tanti premi al fair play e ovviamente la presentazione dei calendari di questa nuova stagione io sono qui con il presidente regionale della FIGC con Hermes Canciani per commentare questa stagione come è andata quali sono state le rivelazioni e se possiamo svelare qualche premio che verrà dato questa sera beh sicuramente è stata una stagione esaltante per il calcio dei dilettanti della nostra regione che è culminata con la vittoria del titolo nazionale alla fine delle mesi di marzo all'Aquila e stasera hanno dei premi speciali andrà l'allenatore di questa rappresentativa che è stata capace di riportare il titolo nella nostra regione dopo 34 anni ci saranno inoltre dei premi cosiddetti alla sportività per alcuni presidenti che hanno compiuto o che le cui società hanno compiuto dei gesti di fair play particolare io sono uno molto diciamo così attento a queste cose e ci tengo particolarmente che nei nostri campionati ci sia quella regolarità e quell'attenzione all'educazione al rispetto che deve essere la base dei nostri ragazzi ecco questi sicuramente sono gli aspetti più importanti di questa stagione ci sono anche tante novità per la prossima stagione perché quest'oggi lo ricordiamo anche la presentazione dei calendari della stagione che verrà beh è il momento clou della stagione questo dove andiamo a svelare quelli che saranno i vari incontri diciamo che ci sono alcune novità importanti la più eclatante è quella del terzo fuoricuoto nel campionato di promozione che si aggiunge al terzo fuoricuoto nel campionato di eccellenza questo è un modo per incentivare anche se l'obbligo chiaramente è un atto formale l'utilizzo dei ragazzi giovani dobbiamo imparare che chiaramente il futuro è loro e quindi dobbiamo anche cercare di farli giocare nelle prime squadre la seconda cosa importante è la creazione dei playoff nel campionato di eccellenza ricordo che il secondo posto del campionato di eccellenza dà la possibilità di partecipare a una fase interagionale la quale al termine la quale ci può essere la missione anche a parte di serie D quest'anno il Lumignac è arrivato veramente a un passo e purtroppo non ce l'ha fatta ma poi anche la panchina lunga dove praticamente c'è la possibilità di portare fino a nove ragazzi in panchina quindi diamo la possibilità agli attori di fare delle scelte importanti e allora io ringrazio il presidente Hermes Canciani per essere intervenuto con noi e vi restituisco la linea grazie grazie mille Alice restando in tema di calcio giovanile ricordo anche che alle 22 trasmetteremo uno speciale dedicato alla presentazione della 33esima edizione del trofeo Nero e Rocco dedicato ai Under 17 e anche alla terza edizione del Memorial Giancarlo Pozzo riservato alle squadre femminili chiudiamo la parentesi calcistica e parliamo di scherma perché proprio in occasione della presentazione del trofeo Rocco è stata premiata con il Leone d'Oro per i suoi meriti sportivi Mara Navaria eccellenza dello sport frulano e freschissima campionessa del mondo nella spada ai recenti mondiali di scherma ascoltiamola per te questa stagione va in archivio ma con una grandissima soddisfazione però siamo a metà di quello che è il quadrienne olimpico quindi io non posso che chiederti quali possono essere i tuoi bettivi futuri soprattutto dopo l'esploi ai recenti mondiali ma spero che sia Ronchi Tokyo non esiste ma questa è la strada che vorrei fare diciamo che io questa stagione l'ho iniziata vincendo magari Coppa del Mondo e l'ho conclusa vincendo il mondiale ho passato quasi tutta la stagione tra le prime tre posizioni del ranking mondiale e coronare il mio sogno di una medaglia individuale importante era importante per me come persona più che altro perché ho sacrificiato tanto nella mia vita ho lavorato tanto ho fatto diverse scelte importanti come quella di partire da casa avevo vent'anni sono ritornata torno appena posso tutte le mie vacanze le faccio in Friuli dopo domani parto per Sappada io sono contenta di questo risultato appunto anche perché viene la nostra qualifica olimpica inizia ad aprile quindi in realtà ad aprile è dopo domani mi concedo ancora un po' di riposo però poi l'8 di novembre ci sarà già la prima gara di Coppa del Mondo e con le parole di Marra Navarria si chiude la parentesi dedicata allo sport linea che torna Davide a Giorgia grazie Jacopo c'è un'ultima ora di cronaca Davide si Giorgia allacciandoci anche alla notizia con la quale abbiamo aperto la pagina delle pilole di cronaca ovvero l'investimento di un pedone da parte di un autobus in via Cividale a Udine con il pedone stesso che è stato trasportato in codice giallo in pronto soccorso a Udine contemporaneamente un'altra richiesta di soccorso è arrivata da Casali Potocco in comune di Premariacco sul ponte romano con una caduta quanto sembra autonoma di un ciclista intervenuta l'automedica un'ambulanza la vittima di 45 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Udine grazie david tutti gli aggiornamenti su questo e su tutti gli altri fatti di cronaca nel nostro TG delle 22 e 30 grazie a voi per averci seguito buona serata un'ambulanza Grazie a tutti.